Amici di Youtube e di Instagram, buonasera a tutti quanti, buon venerdì, buon fine settimana a tutti, buon weekend a tutti quanti Allora, in questi giorni se ne sono dette tante, ieri c'è stata l'assemblea dei soci, importantissimo, non ho fatto il video perché non era abbastanza... Non avevo tempo però, il penis, devo parlarne meglio oggi Delle parole di Zhang e di Antonello, di Antonello comunque parlato precisamente dello stadio, che comunque c'è via libera in questo momento Lui spinge tanto per lo stadio a Rozzano, dello stadio non ho mai parlato però diciamo che per ristrutturare il Meazza ormai siamo lontani Io l'avevo detto, oramai, che sicuramente il nostro fortino, la nostra cattedrale, è un luogo storico che ci fa emozionare ogni volta che ci passiamo di fianco Anche se non dobbiamo per forza entrare, basta, però ormai diciamo che la nostra avventura è quasi conclusa Però comunque il 2026 c'è ancora tempo, poi ripeto qua non si sa ancora cosa si farà Antonello spinge per Rozzano, il comune chi lo sa, vabbè Io non voglio parlare di stadio perché quando parlo di stadio parlo anche di politica Io la politica la voglio tenere fuori dal mio canale perché sennò farei veramente il... lasciamo perdere Ma non c'entra di idee politiche, parlo solo di ruoli che coprono certe persone come il nostro sindaco Io non lo commento perché sennò divento volgare Comunque, comunque, qui entrando a parto allo stadio, ok? E poi di cosa parliamo, no? Perché sentivo già che stavano arrivando gli arabi, c'erano le sirene No? Perché un conto è di dire una cosa, poi dopo diceva, vabbè, ho detto una cazzata Poi ci mancherebbe altro, io se arrivano gli arabi non è che sono... cioè io A me cosa me ne frega l'importante è che la scelta e il cambiamento sia per il bene dell'Inter Se a me domani arriva un arabo con 35 miliardi di patrimonio potrò mai essere scontento che viva Zanga Assolutamente no, perché uno vuol dire che Zanga non ce la faceva più ad andare avanti E poi ti entra una super proprietà con i petrodollari per sbancare l'olimpo del calcio europeo Però, vabbè, che sento veramente un putiferio ancora, no? Perché non è vero Perché l'esclusiva l'abbiamo data noi, non l'abbiamo data noi, non l'abbiamo data noi, non l'abbiamo data noi Uno che ha... il pappagallo che ha iniziato a dire Prima c'erano gli americani, poi dopo Ha detto no, ma a me non arrivano voci A me non arrivano queste voci qua No, no, io parlo con i giornalisti della Madonna Io sono un pezzo grosso dello spettacolo, so tutto, parlo con tutti Però in questo momento non so niente Però due mesetti dopo, ah no, però io so che arrivano gli arabi Perché a Milano la gente, le voci girano, no, no, sì, sì, sì Poi, vabbè, arrivano gli arabi Poi dopo ha detto che arrivava Ziliacus Poi dopo ha detto che arrivava un altro fondo cinese Cioè, realmente, Invescorp, ogni... la prima che usciva era la sua, praticamente, no? E poi c'è gente che gli crede a questo qua, no? Però, capite, no? Perché poi vedo che fare live... Vabbè, non voglio andare avanti, però 50.000 iscritti e 60 in live Insomma, vabbè Sto zitto che è meglio Però... Perché comunque, lui che ne sa tutte Più del diavolo, però non sapeva di sta roba qua Del... di Zang, no? Quindi, Zang ha riconfermato La sua presidenza Io ci ho sempre creduto, ripeto Beh, non è il fatto Io non ce l'ho contro nessun canale Che parla della trattativa degli arabi O di altri canali Io ce l'ho con gente che si improvvisa Gente che non sa niente Non sa un cazzo, però Perché c'ha il gusto di andare dietro le cose Deve cavalcare le onde Ma questa gente mi fa schifo Tutto qua Il resto io non ho nessun problema con nessun canale Sono tranquillissimo, però Però, capite anche che se uno ha detto Tre anni fa che arrivava l'arabo Poi l'ha spostato Dato un'altra data Dopo due anni Dopo un anno ancora Capite che sono tre anni che è passato qualcuno E quest'anno sono ancora arrivati Poi magari arriveranno veramente Io Non ce l'ho con nessuno Sul bar Zero dissing Dopo zero Non mi interessa Però È un po' così la situazione Cioè non si sa ancora niente Però A quanto pare Zhang rimane A quanto pare Rimane ancora più carico di prima E c'è solo da fargli complimenti A Steven Alla famiglia Suning Alla famiglia Zhang Per Il lavoro che hanno fatto in questi anni Ripeto Dopo l'arrivo di Zhang San Siro è tornato pieno come una volta Una curva che è tornata veramente a cantare E A bruciare le tappe Come non si vedeva neanche Veramente neanche nell'Inter del tripleto Uno stadio pieno così Allenatori della Madonna Da 12 milioni Allenatori vincenti Profili europei Profili top Direttori sportivi con i controcoglioni Non appena arrivato l'anno dopo Mette sotto contatto subito Marotta Giocatori top player Con stipendi da Dai 5 agli 11 12 milioni di euro Squadra rinforzata Nel bene e nel male Con le disponibilità economiche del caso Ogni anno E ti ha portato una finale di Champions Dopo 13 anni Con il presidente più taccagno del mondo Con l'allenatore più scarso degli ultimi 40 anni Ti ha portato in finale di Champions Persa per Una casualità E un pelo di Un pelo pubblico diciamo Perché sappiamo benissimo Che quella parte di lì Se la giochi 500 volte L'Inter la vince 499 Però Lasciamolo credere Lasciamolo godere Ai rosiconi di merda Guffi e Gobbi Che E i bilanelli Che hanno vinto l'unico trofeo dell'anno scorso Praticamente l'hanno vinto quando? Il 10 giugno Perché Hanno visto il City vincerla la Champions Allora loro hanno vinto il loro primo trofeo dell'anno Volevano parlare e fare i fenomeni Sti Sti luridi Sti luridi conigli Conigli Quindi Ti ha portato uno scuder Certo dopo quanti Dopo 11 anni Ti ha portato due coppe italiane Due supercoppe italiane Con la presidenza più tir Che il presidente Nulla tenente Che doveva essere arrestato Come hanno detto certi Quindi Non lo so Nel senso Io analizzo le cose che sono successe Le cose Penna su carta Quindi Le cose penna su carta Sono che Zang da quando è arrivato Ha Non migliorato Veramente ha Cambiato l'Inter Poi Se vogliamo dire Altre cose che non sono successe Se vogliamo dire che C'è stato un ridimensionamento Non c'è mai stato un ridimensionamento Anzi Il ridimensionamento Era da passare da Toir A Zang Quale il ridimensionamento Ma A migliorare E basta Quindi un applauso a Steven Zhang Per il lavoro che sto facendo Che ha fatto negli anni E poi volevo parlare Dello scandalo Veramente Che è una vergogna Io lo sapevo Me l'aspettavo Perché io lo dicevo Secondo me A parte che guarda Qualche daspo caderà Qualche squalifica caderà Perché io Purtroppo è così Mi dispiace Però anche lì veramente Ci sono certe regole Poi negli stadi Che è meglio Che non parlo Anche qui Perché se no scendiamo In un altro tunnel Veramente che non voglio toccare Però Oggi pomeriggio È arrivata la notizia Il comunicato della storia Della curva Dove Dicono che i fischietti Sono stati vietati Allora Sono partiti che erano 50.000 Quindi quasi tutto Lo stadio tolto In terzo anello Poi sono diventati 30.000 Poi stavano per diventare 10.000 solo per la curva Adesso vietati Perché Allora Qua c'è da mettere Un attimo le cose in chiaro Perché se parliamo Di fischi È una grandissima stronzata Perché la gente Sa fischiare benissimo Con 3-4 dita in bocca Si fischia tranquillamente Anzi Forse anche meglio E più forte Del fischietto di plastica Secondo me Quindi già Se è per i fischi Non capisco la regola del cazzo Perché se è per i fischi O O O Per Demoralizzare Per Comunque Punire Nel profondo Mediaticamente Un giocatore Non capisco Il motivo Perché non è che senza Fischietto la gente Non riesce a fischiare Prima cosa Quindi già non stai Contenendo nessun danno Il mio La mia paura È che L'abbiano tolto Perché sanno che Se tu tiri un fischietto Dal secondo anello Lo becchi in testa Lo becchi davanti Gli fai male A sto Uomo di merda Poi che Il fatto che Sul fatto che se li merita Veramente I fischietti addosso Questo Siamo d'accordo Però ragazzi Purtroppo si parla Di sempre un atto Di violenza Purtroppo Perché è classificato Di violenza Quindi In teoria La questura Ha detto di no Ce ne faremo Una ragione Detto questo La merda Verrà fischiata Lo stesso Io lo fischierò Senza problemi Perché veramente Per come ci ha trattato Di merda Altro che i fischietti Si meriterebbe addosso Ma non vado avanti Perché non voglio Essere bannato ancora Però ecco Diciamo che È una vergogna Perché se si parla Di fischi Cioè non vedo Non vedo veramente L'utilità Di questo provvedimento Del cazzo Se invece Se invece È perché Se giustamente Lo tiri dalla curva Sotto Anche solo il primo anello Se lo carichi Se lo carichi da dietro In un lancio Roteante Se lo prendi Gli fai male Con il fischietto Però Però la cosa Che mi fa incazzare È che Al franchi Però Quando è tornato Vovic a Firenze In Fiorentina Juve Però lì 10.000 fischietti Gli hanno fatti usare Lì Gli hanno fatti usare A Napoli Con Iguain Però gli hanno fatti usare Quello che Ripete La legge Secondo me Non è uguale per tutti Come ha detto Anche la curva Secondo me Perché Poi è vero Perché è vero Che erano Il Franchi E Il Maradona Sono comunque Stadi diversi Da San Siro Perché hanno Le piste D'atletica Hanno sicuramente Il campo Non è vicino Ai tifosi Però ragazzi Di che cazzo parliamo Se è veramente Per i fischi Non capisco Il provvedimento Vergognoso Che per gli altri Lo fa fare Quindi vabbè Comunque Non cambia niente Nel senso Non è che Perché sento Ah no Però Adesso E poi Secondo me Si possono anche Portare da casa Magari me lo metto Nella scarpa Vediamo Tanto Se non lo lanci Se già che non lo lanci Che cazzo devi fare Se no Letteralmente Dita in bocca Si fischia 90 minuti Quel verme Poi Per quanto riguarda La partita L'ho sempre detto È vero che È una guerra Cioè domenica È una guerra Io potrei anche perdere Ma voglio vederlo Uscire dal campo Con le lacrime Però c'è anche da dire Che comunque Si affronta la Roma Non solo Il Come dire Il Il Non voglio nominarlo Guarda Non Se no Finiamo male Il Il Vile traditore Indegno Merda umana Ecco Ecco Forse così è il più chiaro Ecco Non solo per fischiare Quella merda lì Non solo per fischiare Quell'essere lì In mondo Ma Comunque È una partita Con una Roma Che ripeto Quest'anno È partita malissimo La stagione Secondo me Molto Fin adesso È molto 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 Sotto le aspettative Soprattutto per il mercato Che ha fatto Però Comunque È una squadra Che ci Che come fanno a Roma Loro ci marciano sopra Cioè è una squadra Che la butta In cacciara È la classica squadra Di Roma Per quanto riguarda Roma Sud Perché la Lazio Sono dei signori Poi sì Avranno idee politiche Ma sono signori Parlo come tifosi Anche soprattutto La Roma È una squadra Di cacciottari Quindi La mettono sempre In polemica Già l'anno scorso A San Siro Per ogni tocco Ogni Ogni rimessa laterale C'è tutta la panchina In campo Veramente E non è solo Colpa di Murigno Perché Murigno C'ha la sua età Quindi Non è che Murigno Muove da solo Una panchina Sono i collaboratori Che gli danno la mano Che gli danno seguito A fare queste Queste cose Che alla lunga Rompono i coglioni Perché non è possibile Che per una rimessa laterale Un calcio d'angolo Tutta la panchina In campo Allora noi Cosa cazzo Dovremmo fare Per tutti i torti Che ci hanno fatto Cioè Ad entrare in campo Con le pistole Cioè La panchina della Roma È peggio Della panchina Dei mister di zona Per chi non li conoscesse Per magari I più anziani Che non hanno TikTok I social Però Vabbè Vabbè Amala sempre Sempre Forza Inter Un bacione a tutti Ci vediamo al prossimo video Lukaku Uomo di merda Obbligo È un dovere Un onore Bisogna farlo Crollare Di lacrime Perché bisogna farlo Stare male Come lui ci ha fatto stare male Per due volte A me no Solo la prima Perché l'ho capito Che è infamera Infatti poi Non l'ho mai perdonato Quando è tornato L'anno dopo Comunque Lo sapete Ma è la sola Per puntualizzarlo Amala sempre Vi lascio a tutti ragazzi Forza Inter Ciao